Sospesa Cercherai se nella mia parte cercherai Sospesa Risa, cambiato look Mi pare giusto Adesso chiameremo 10 SPONSOR Però vorrei invitare qui Angela del Grande Fratello Che è qui con noi che è venuta a trovarci per stare in compagnia e dare l'onore agli sconsoli di darle un bel diploma buonasera a tutti siete in tanti veramente oddio, questa è la seconda volta che io grazie a Rita vengo a Scorzè vista di giorno ha tutta un'altra visuale visti invece di sera siete veramente in tanti innanzitutto ringrazio Rita per avermi invitato dovete sapere che Rita è conosciuta all'interno di Mediaset in una maniera fantastica lei ha sicuramente messo le mani ai capelli di tantissimi VIP io ho anche l'onore di essere stata pettinata da lei poi lei conosce il mezzo mondo tutti la conoscono, credetemi, forse sicuramente a Mediaset è veramente come on, grazie Rita, vogliamo ricanzarvi anche noi come on come on come on come on come on come on shine and up come on shine and up yeah one sun yeah come on 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 e allora poi vorrei sul palco Rita Felice l'incanto questa incantevole serata organizzata grande questa sera e poi e poi e poi vorrei qui sul palco Angela grazie venga che con pazienza e devozione è stata qui a farci compagnia tutta la serata veramente un grande applauso eh mi pare giusto allora guarda se sono un nuovo fortunato guarda a te niente ce n'è una per ogni gusto voglio dirci grazie 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 a tutti voi grazie 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 grazie